Quante emozioni ieri mattina al Palamagio. Il ritorno di Oscar ha cancellato la delusione della seconda sconfitta consecutiva per la Juve Caserta, battuta da Pesaro, la prima in casa. Circa 4.000 presenti per abbracciare Oscar Schmidt, che ha emozionato tutti ricevendo la cittadinanza casertana e l'Italian Basket Hall of Fame. Al Palamagio era presente anche Tajewicz, il suo coach ai tempi della Juve Caserta, che Oscar ha sempre menzionato parlando della sua carriera cestistica.